ciao a tutti bentornati sul canale oggi facciamo il restyling del bagno allora siamo andati alla leader l'abbiamo preso oggi è il 16 luglio da oggi ci sono in offerta ci sono dei mobiletti per il bagno che a noi servivano e spero che ci stiano perché abbiamo preso la misura e dato che abbiamo il bagno un po piccolino speriamo proprio che ci stiano adesso ve li faccio vedere e poi li monteremo allora questo è quello piccolino e misura 33 per 81 per 28 questo e costa 19 99 mentre questo che è sempre 33 però è un metro 81 per 28 anche questo secondo me è carino così non ci metterò dentro anche i detersivi questo 29 99 vero ecco adesso andiamo aprirlo e vi faremo vedere montarlo ciao amore saluta allora praticamente scusate non guardate il casino allora se ci sta volevamo mettere quello alto qui e qua dove abbiamo lavatrice e asciugatrice quell'altro piccolino e togliere questo qua che quello della biancheria sporca del del lavoro dentro ci sono tutte quante le istruzioni vediamo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. 30 euro, voglio dire 29 euro e 90, va benissimo. Qua vediamo, magari ci metto qualcosa di carino, però sono troppo contenta. Così ho i detersivi finalmente là sotto e non li vedo più nessuno, anziché sopra la lavatrice così qua. E poi mi piace un sacco questo qua che si vede, guardate, mi piace tantissimo. Dov'è il mio amore? Ti piace? Cosa dici? È fresciata. Ti piace? Adesso li divido un attimo, metto i ripiani, questi due. Sotto non li metto, tanto sotto i detersivi mi va bene così. Lì ci mettiamo qualcosa di carino, li metto i ripiani. Grazie amore, grazie, dammi un bacio. Anzi, io te lo do perché te lo meriti. Ma certo, così lo dai a tua sorella, vieni qua. Grazie. L'ho fatta la posta. Ecco qua il mio biletto finito, mi piace tantissimo. Per ora l'ho sistemato così, poi vedrò se andrà bene. Qua ho messo queste cose, creme per il corpo, capelli, creme spray, prodotti per le unghie, deodoranti e sotto, come vi avevo già fatto vedere, i detersivi. E questo è l'altro mobiletto montato, purtroppo non sono riuscita a fare il video perché non stavo tanto bene mentre il mio marito l'ha montato, però è qua. Qua non ho ancora messo entro niente perché ha finito da poco. E questo è il cassettino. Poi magari se vi va vi farò vedere come lo sistemo. Ecco, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima, ciao!